Speriamo che duri questa cosa perché i dati invece in mio possesso dicono che abbiamo sempre avuto quei numeri lì, quindi non lo so, io mi auguro che da qui almeno fino alla fine dell'anno saremo sempre gialli, anzi per tornare proprio bianchi. Quindi quello che un po' vorrei, non voglio proprio fare una polemica, però io so per certo che ci sono dei comuni anche vicino al mio, a Montelabate, che hanno dei dati superiori a questo indice e non è stata applicata la stessa misura perché a oggi non c'è un'ordinanza restrittiva nei confronti di nessun comune marchigiano. Ecco questo, come dicevo l'altra volta, non lo ritengo molto corretto perché se si applica, se si prende una strada bisogna portarla avanti sempre a prescindere di chi si incontra sulla propria via. Spero che il Presidente abbia capito il mio discorso ieri inerente alla zona industriale perché comunque, ripeto, noi accogliamo tantissime persone che vengono da fuori, da Fano, da Rimini, da San Ludecio, insomma da Urbino, da Fermignano, perciò c'è una bella mobilità, credo che abbia capito, vediamo, perché io penso che il nostro veicolare avviene solo tramite lì. Ho avuto modo di spiegare che questa è un'area omogenea su cui ricade tutto su alle foglie, in conto che tu fai i conti su 50.000 abitanti, in conto che lo fai su 15.000. È chiaro che sballa tutti i parametri, la norma prevede, diciamo, in un quadro provinciale operare omogenee, però è andata così. Adesso bisogna continuare a restare attenti perché, come si è visto in Sardegna, si può passare dalla zona bianca alla zona rossa, quindi... Ma poi soprattutto bisogna fare tutti i vaccini. Francamente sono un po' preoccupato perché vedo che non vanno avanti con i vaccini.